In questo video ti aiuterò a scegliere il mio monitor economico per il tuo PC adatto sia per navigazione web che per lavorare da casa e ti aiuterò a scegliere il migliore in base alle tue esigenze ed eccoci qua su Amazon ragazzi dunque in questo video ovviamente ho scelto soltanto i migliori pannelli che sono di tipo IPS e WA è molto importante questa distinzione perché ha la stessa cifra quindi per quanto riguarda i modelli più economici come possiamo vedere al video sui 100-120 euro sarà possibile trovare anche pannelli di tipo TN hanno una qualità decisamente più scadente come potete vedere dall'immagine i colori sono meno accesi, meno brillanti e quindi se allo stesso prezzo possiamo avere dei pannelli meglio come gli IPS e WA chiaramente sarà meglio andare su quelli e sono appunto quelli che vi consiglio e che ho selezionato tra i due il migliore e quello più consigliabile ovviamente è l'IPS in ogni caso non c'è un'enorme differenza tra WA e IPS come invece ci può essere tra un WA e un TN per quanto riguarda la dimensione vi mostrerò sia quelli da 22 e 24 pollici anche 27 pollici in ogni caso io vi straconsiglio di andare anzi sui 22 e 24 pollici dato che essendo più piccoli la risoluzione è più adatta a questa dimensione se andiamo su un 27 pollici ad esempio full hd sarà possibile notare i pixel dato che è troppo grande rispetto alla risoluzione se volete andare su un 27 pollici chiaramente è meglio scegliere un 4k e un video adatto a quello nella descrizione in quel caso però ovviamente il prezzo aumenta quindi se è per l'anorme navigazione e per lavorare al nostro computer diciamo che la scelta migliore è andare su un 22 e 24 pollici full hd con un refresh rate da 60 o 75 hertz partiamo quindi con il miglior modello economico con questo modello qua di Philips che l'ho scelto perché ha un adaptive sync a 75 hertz che comunque anche per l'anorme navigazione è chiaramente migliore rispetto a un 60 hertz e non solo questo ha anche delle casse audio integrate che è una cosa che molto speso sui monitor moderni manca quindi dovremmo comprare delle casse separate con la maggior parte dei modelli qua le abbiamo già integrate su un prezzo molto basso che è quello dei 125 euro inoltre ha il supporto di tipo Vesa nel retro quindi possiamo per esempio metterci un braccio che lo avvicina alla nostra scrivania o alla lontana oppure possiamo anche appenderlo al nostro muro e inoltre ha i classici attacchi sia VGA che HDMI un altro modello praticamente identico è questo qua della Q-Roy anche questo è un pannello di tipo VA 75 hertz ha la VGA, l'HDMI e ha il supporto Vesa passiamo ora a un modello che invece monta come pannello un IPS e non un VA quindi la resa grafica sarà leggermente migliore ma non ci saranno ovviamente delle enormi differenze con questo HP PCV24E che è sempre da 24 pollici ed è full hd però ha un refresh rate fermo a 60 hertz anche questo ha il supporto Vesa diciamo che comunque la resa grafica tra questi bene o male è molto simile quindi vi consiglio di andare su quello che vi piace di più e che magari è più scontato in quel periodo in cui guardate il video sempre per quanto riguarda l'IPS abbiamo anche questo modello di Huawei sempre da 24 pollici e con le stesse caratteristiche con qualche euro in più se siete interessati si trovano anche monitor a 144 hertz ovviamente queste sono adibiti principalmente al gaming quindi se siete interessati ai videogiochi chiaramente è una scelta migliore dato che il refresh rate è molto alto l'immagine sarà molto fluida ma sappiate che anche se non giocate ai videogiochi ma guardate ad esempio film o video sul web avendo un refresh rate molto più alto l'immagine sarà decisamente più fluida quindi se volete investire qualche euro in più diciamo che ci sono diversi modelli a 160 euro la maggior parte però sono fermi a 200 euro per quanto riguarda il 144 hertz come per esempio questi due modelli e sappiate che è molto importante questa scelta perché se volete andare ad esempio su un 27 pollici ci sono appunto diversi modelli da 27 pollici come ad esempio questo che sono appunto da 144 hertz e che non si discostano troppo dai classici 27 pollici che però hanno un refresh rate fermo a 60 o 70 hertz se volete invece risparmiare e andare sui 27 pollici quindi con un refresh rate più basso quindi fermo a 60 o 70 hertz non mi interessa il gaming abbiamo per esempio questo modello di samsung che è di tipo VA a 160 euro e abbiamo le versioni da 27 pollici che abbiamo visto poco fa come questo qua di hp il pc v27e che è fermo a 160 euro questo modello qua di samsung il led t35f questo per esempio è ips e il curoi che è di tipo VA a 160 i link sono in descrizione al prossimo video